La verità shock su Mirta Merlino e Marco Tardelli. Nel panorama dello spettacolo, le voci di gossip sono sempre presenti. Di recente, si è diffusa la notizia di una possibile relazione tra Mirta Merlino e Marco Tardelli. Tuttavia, Mirta ha prontamente smentito queste voci, affermando che una relazione con Marco sarebbe impossibile perché lui non è abbastanza ricco. Marco Tardelli è un noto personaggio del mondo del calcio, mentre Mirta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva di successo. Nonostante le voci, Mirta ha risposto con ironia alle insinuazioni, sottolineando che non ci sarebbe alcuna possibilità di una relazione con Marco. Questa dichiarazione ha immediatamente raffreddato i gossip, mettendo fine alle speculazioni. È importante ricordare che nel mondo dello spettacolo le voci di gossip possono diffondersi rapidamente, ma non sempre corrispondono alla verità. Pertanto, è sempre meglio affidarsi a fonti affidabili e attendere conferme ufficiali prima di dare troppo peso a queste voci. Nel caso di Marco Tardelli e Mirta Merlino, sembra che non ci sia nulla di più di un semplice pettegolezzo.